18 liste, 4 candidati a sindaco al comune di Ortona dove si andrà a votare come noto il prossimo 12 giugno e in caso di ballottaggio, essendo Ortona uno dei comuni con più di 15.000 abitanti, si tornerà alle urne il 26 giugno. Dicevamo, 18 liste sono state tutte presentate per tempo, quindi molto prima dell'orario di scadenza per la presentazione fissato per le 12. Andiamo a vedere. Candidato sindaco Leo Castiglione, il sindaco uscente, viene appoggiato dalle liste Il Comune delle Idee, Cittadini Consapevoli, La Città Ideale, Forza Leo per Ortona, Ortona Civica. Candidato sindaco Angelo Di Nardo, appoggiato da Fratelli d'Italia, Lega, Libertà e Bene Comune con Angelo Di Nardo sindaco, Ortona Sociale, Ortona Futura. Candidato sindaco Ilario Cocciola, appoggiato da Ortona e Territorio, Unione di Centro, Ortona Popolare, Comunità e Progresso, Il Faro, Ortona Coraggiosa, Ortona Cambia, Democratici per Ortona. E il candidato sindaco Francesco Terra, appoggiato da Ancora Italia. Ora vediamo quale sarà l'iter. Abbiamo ascoltato il dirigente dei servizi demografici del Comune di Ortona. Giovanni Demerinis, dirigente dei servizi demografici, quindi tutto si è svolto con tranquillità, con ordine. Entro le 12 sono arrivate tutte le liste che competono. Qual è ora l'iter? Adesso dobbiamo convocare la sottocommissione elettorale, nel pomeriggio, perché queste sono cose che vanno abbastanza veloci, e approvare le liste da parte della sottocommissione elettorale. Quindi si approveranno tutti i nominativi dei candidati, sia per il Consiglio Comunale, sia per la candidatura dei sindaci, e dopo di che si provvederà anche alla trasmissione per la redazione dei manifesti, che conterranno tutti questi nominativi per poter poi cominciare effettivamente la campagna elettorale. In quanti andranno le urne? Quanti sono gli abitanti? Ortona ha all'ultimo censimento 22.466 abitanti. Diciamo che dobbiamo aspettare un attimo il blocco delle liste, che è l'ultimo adempimento che deve essere fatto in sede di Commissione elettorale, però diciamo che circa sulle 19.000 persone avranno diritto al voto.